Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Rainbow Six Siege vi mostrerò un glitch nella mappa un parco di divertimenti. Con operatore di difesa collocate lo scudo qui in prossimità del cabinato arcade e posizionatelo in modo che poi potete scavalcarlo. Vedete in questo modo è scorretto quindi prendete lo scudo e assicuratevi di posizionarlo correttamente deve essere in linea con il cabinato arcade ma non deve superare gli sgabelli. Se fate la procedura correttamente vedrete scavalcare qui ci vuole un po' per comparire quindi dovete guardare attentamente fino a quando non compare scavalcare. Vedete? Ok ci sono. Quindi scavalcate per entrare qui abbassatevi e voilà. In questo modo diciamo siete coperti potete eliminare tutti i nemici che provengono da queste direzioni e potete tenere sotto controllo quella direzione e anche questa. Vedete? E siete al sicuro perché avete le spalle coperte quindi chi passa di qui non diciamo penserà che voi vi trovate appunto tra i due cabinati.